Ciao a tutti amici, benvenuti in questo unboxing. Oggi abbiamo una cosa bellissima, il mantello invisibile. L'abbiamo comprato su Amazon per 99 dollari, ho messo il link nella descrizione, andate tutti. Allora, ho già fatto l'unboxing, l'ho già provato ieri, quindi non stiamo a perderci in chiacchiere. Vediamo subito com'è. È un tessuto abbastanza semplice, sembra una stoffa. Vediamo subito come funziona. Potete già vedere che praticamente qualsiasi cosa che viene, qualsiasi cosa che c'è su questo telo, diciamo, è quello che c'è dietro, perché ha delle microfibre, nanotubi, che la luce, cioè in realtà la luce che viene di qua, passano i nanotubi e va a voi. Facciamo subito una prova. Guardate. Adesso guardate, amici, come scompaio. Sono scomparso. Sono un fantasma. Guardate, eh, di nanotubi. E sono trasparente dalla vita in su. Andiamoci un po'. Allora per il momento è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.